Cinque persone appartenenti all'Associazione Eversiva di Estrema Destra a ordine di Agal dal 2019 al centro di un'inchiesta della Procura di Napoli sono state raggiunte da misure di sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno nei comuni di residenza emesse dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli per periodi variabili dai tre anni ai tre anni e mezzo. Il gruppo criminale che aveva la propria base operativa a San Nicola la Strada in provincia di Caserta ma era attivo prevalentemente in provincia di Napoli fu decapitato da un blitz eseguito nel novembre del 2022 con l'arresto delle figure di vertice. Secondo quanto emerso dalle indagini l'ordine di Agal era un'associazione terroristica neonazista suprematista e negazionista i cui aderenti su Telegram si dichiaravano pronti ad un'azione militare con armi ed esplosivi contro una caserma dei carabinieri in provincia di Napoli e anche contro obiettivi civili come un centro commerciale. L'associazione aveva come obiettivo quello di promuovere un nuovo ordine mondiale ispirandosi agli iscritti del gerarca nazista Goebbels. Alcuni membri, sempre secondo le indagini, si sarebbero trasferiti all'estero per addestrarsi ai combattimenti corpo a corpo e all'uso delle armi.